Tante criptovalute stanno performando alla grande, soprattutto le meme coins mettono un più 10%, più 15%, addirittura un più 20% come WIFE e Popcat Quindi perché questo sta succedendo ragazzi? Cosa potrebbe accadere nel breve termine? Voglio assolutamente aggiornarvi con tante notizie importanti per quanto riguarda Crow, Crypto.com, Cronos Perché queste notizie fanno ben sperare per il futuro di Crow, quindi restate sintonizzate assolutamente E soprattutto voglio anche aggiornarvi con altre notizie rilevanti per quanto riguarda il mondo cripto Quindi adesso iniziamo subito ragazzi, prima di iniziare però, un mi piace, basta un click e il gioco è fatto Se non siete iscritti iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi Fatemi sapere se siete qui ragazzi con un mi piace, davvero non costa nulla Vediamo un bel pump stamattina, può essere che porta fortuna, però davvero adesso iniziamo Ripeto, vediamo Pepe più 14%, vediamo Bonk più 12%, Tao più 14% Tantissimi altcoins che stanno performando alla grande, però un bitcoin all'incirca sta tradando Sui 63.600 dollari al momento in cui registro, siamo in zona neutrale per quanto riguarda il mercato cripto E in generale, e soprattutto ancora ragazzi, una market cap di 2.2 trilioni di dollari Con solo 50 miliardi di volumi nelle ultime 24 ore, quindi niente di assurdo è cambiato Diciamo, quindi non stiamo vedendo volumi incredibili, però il mercato asiatico ha aperto positivo stamattina Ultimamente, soprattutto nelle ultime settimane, il mercato asiatico sta spingendo il mondo cripto Quindi questo è positivo, e quando il mercato asiatico scende, pure le criptovalute scendono Quindi siamo un po' correlati al mercato asiatico in questi ultimi mesi E questo è positivo, diciamo, se il mercato asiatico performa molto bene Ma passiamo ragazzi alla notizia più importante qui, perché voglio parlarvi di Crypto.com Perché ho visto questo post su Exo e ho detto no, devo assolutamente parlarne ai miei iscritti Perché vediamo che qui ci viene fatta un'analisi di perché Crypto.com potrebbe, il token superto acro Potrebbe risvegliarsi all'improvviso e ritornare su livelli altissimi Il punto numero uno è il più importante Ora Crypto.com è il secondo exchange più grande per volumi sullo spot Solo dietro Binance E questo significa ragazzi che sta avendo una crescita, diciamo, indifferente È lo sponsor della Champions League Abbiamo visto tantissime persone parlare di Crypto.com E da settimane e mesi ormai l'exchange sta facendo sempre più volumi sullo spot Perché ha retail investors all'interno Quindi investitori di piccolo calibro che investono piccole cifre E che quindi tendono a fare trading sullo spot e non fare trading ad esempio con la leva finanziaria Quindi per questo super interessante Punto numero due, la tokenomics È una supply massima di 30 miliardi di cro E soprattutto 26.57 miliardi sono già in circolazione Questo significa che 88.5% dei tokens sono già, diciamo, stati emessi E combinando questo con l'inflazione, con il tasso di inflazione annuale di cro Del 3.5% Questo ovviamente crea una tokenomics molto potente E poi viene anche aggiunto che il 40% dei cro sono messi in staking on chain Quindi questo fa sì che la supply disponibile sia inferiore Queste cose già le ho dette da anni ormai Sono 4 anni che faccio video E quindi già sappiamo, mi seguite da tempo Sapete che già non ho parlato di queste cose E ci sono cose a cui discutere che sono molto negative per quanto riguarda il progetto in generale Però lo stesso, è molto interessante vedere ciò Soprattutto se Crypto.com continua a vedere questo successo che sta avendo Poi vediamo che è stata lanciata la Kronos ZKVM Che potrebbe, diciamo, dare un push, diciamo, maggiore a tutta la chain di Kronos E di conseguenza anche poi il progetto di Crypto.com in generale Potrebbe, diciamo, avere una risalita E soprattutto anche i token presenti sulla Kronos Chain Che sono un po' morti Quindi spero che ciò cambia ovviamente Poi vediamo che la market cap in verità di Kronos È solo, solo a 2 miliardi di dollari Quindi questo significa che avendo 2 miliardi di dollari Potremmo arrivare anche a 3, 4, 5 miliardi Se dovessero entrare i volumi nel mondo cripto E soprattutto le persone acquistassero Se le persone acquistassero Kronos in generale Questo causerebbe ovviamente la market cap Una crescita esponenziale della market cap Come abbiamo visto in passato Spero che ciò accada nuovamente Ma anche per altri nomi come Shiba Inu Che ha avuto una risalita Perché sono state successe qualche, diciamo, cose importanti Ma ragazzi, prima di continuare Voglio un secondo parlarvi di Aevo Perché ho già creato delle menzioni al riguardo E loro hanno avuto un exchange decentralizzato super interessante Loro hanno lanciato, diciamo, un token su Binance Maggiore exchange E già adesso si può comprare e vendere E ha avuto un successo incredibile Anche per quanto riguarda la piattaforma vera e propria Infatti su X hanno già più di 120.000 followers E hanno tantissime promozioni attive Per quanto riguarda i nuovi utenti E gli utenti già esistenti sulla piattaforma Come al solito vi lascio il link Qui in basso nella descrizione di questo video Per dargli un'occhiata E dategliela Perché permettono di fare tantissime cose interessanti Permettono di fare trading di derivati e spot Sia il trading dei derivati Quindi futures e opzioni Poi sullo spot acquistare Bitcoin Hanno tantissimi token listati ragazzi Davvero quindi si può fare di tutto Hanno commissioni molto più basse Rispetto a tantissimi altri exchange centralizzati Perché questo qui è un po' più complicato da utilizzare Però l'interfaccia è sempre super semplice E soprattutto ragazzi Poi ci sono alcune sezioni Ad esempio come la sezione delle strategie Che permette diciamo Di implementare strategie complesse Come ad esempio il trading algoritmico Ordini a griglia E ordini a scalare Però viene fatto in modo semplice Davvero semplicissimo il tutto E tra l'altro abbiamo anche la sezione Airdrop Che permette di entrare Diciamo in questi nuovi tokens In modo semplice Veloce Soprattutto prima che vengano listati Basta ad esempio solo bloccare I token a Evo Già ve l'ho mostrato E di conseguenza poi ricevete Tramite il blocco Poi dei token Airdropati Quindi gratis Ed è super interessante Soprattutto se avete token a Evo Disponibili Non sapete cosa fare Quindi è super super interessante Ragazzi Dategli assolutamente un'occhiata Hanno anche un supporto clienti 24 ore su 24 7 giorni su 7 Quindi se avete qualche problema Ricevete sempre una risposta Quindi dategli assolutamente un'occhiata Adesso ragazzi possiamo assolutamente continuare E volevo portarvi questa notizia Per quanto riguarda Trump Che sta per adesso vincendo Le elezioni Diciamo Questa qui è una statistica Che viene aggiornata man mano Ogni giorno Ogni settimana E per adesso si trova al 51% Sta vincendo con un 3% Su Kamala Harris Quindi questo è positivo Per quanto riguarda le criptovalute Attenzione Non voglio giudicare politicamente nessuno Perché Donald Trump Ovviamente si è esposto molto su Bitcoin Sta lanciando un progetto Anche diciamo Inerente alle criptovalute Quindi vincere le elezioni In America Significa Avere un'adozione di massa Più veloce E soprattutto più pro-crypto Anche Elon Musk Che pro-crypto Si è schierato con Trump Ragazzi Quindi Ripeto Dal punto di vista politico Non voglio espormi Però dal punto di vista Delle criptovalute Mi espongo Ovviamente E Trump è il numero uno E speriamo che Diciamo Faccia quello che debba fare E che prometta Che diciamo Faccia quello che ha promesso Intendo Difficile Dal punto di vista politico Come sappiamo molto bene Poi ragazzi Un'altra cosa Super interessante Un po' divertente Che volevo mostrare Mi fa troppo ridere E in pratica Hanno fatto un Un sondaggio Per quanto riguarda Gli hobbies Meno attraenti Degli uomini Al primo posto Più posto Ci sono i videogames Ok Secondo posto La collezione di figurine Terzo posto Cryptovalute Sopra L'online trolling E il gambling Quindi Noi siamo Al terzo posto Ragazzi Siamo peggio Di fare le stronzate Online E scrivere stupidaggini E addirittura Siamo sopra il gambling Quindi Vabbè Non so Non sono d'accordo Ovviamente Fa ridere Questa cosa Addirittura Al terzo posto Però Ci sono persone Che reagiscono male Quando dico Cosa faccio Per quanto riguarda Le criptovalute Persone che reagiscono Bene Mi chiedono Fanno domande Sono super interessate Però Ci sta ognuno La sua opinione Poi Per quanto riguarda Tether Ragazzi USDT Ci sono stati tantissimi Posti A riguardo Persone spaventate Perché In Europa Col Mika Non era compliant USDT Sarebbe stato Listato Da Coinbase Ma secondo voi Ragazzi Questi fatturano miliardi Comando Il mercato cripto In questo momento Secondo voi Possono mai Non essere compliant In Europa Infatti Paolo Ardoino Il CEO Di Tether Sta dicendo Che troverà Una soluzione Già è nuova La soluzione Già c'è la soluzione Quindi Non vi preoccupate Tutto safe Per quanto riguarda USDT In Europa Non ci sono problemi State tranquilli Per quanto riguarda Le criptovalute I prezzi Bitcoin Sempre uno stesso range Ragazzi Questo qui è il grafico Weekly Ma se prendiamo Il grafico giornaliero Si vede ancora meglio Sempre uno stesso range Niente è cambiato Stiamo facendo sempre Massimi decrescenti E minimi decrescenti E Crow in verità Non si è mosso Neanche C'è stato Shiba Inu XRP Per notizie positive E negative Shiba Inu Si è mosso un pochettino Questo qui è il grafico giornaliero Abbiamo visto volumi In entrata per Shiba Inu Per XRP Altra criptovaluta Ad esempio Brett E tutto il resto Quindi Spero che questa onda positiva Continui E che questo Ball market Finalmente inizi Perché non ce la facciamo più Ragazzi Siamo sinceri Detto questo Ci sono tantissimi link Ragazzi Qui in basso in descrizione Questo video Super interessanti Dategli assolutamente Un'occhiata Biggett ragazzi Ha tantissime promo E uscirà un video Super interessante Con Biggett ragazzi Perché Hanno un nuovo sponsor Sono sponsor della Liga E ci sono tanti bonus In arrivo Quindi Oltre ad avere il 5% Di sconto Sulle fise Fino a 8.000 dollari Di bonus Tramite il mio link 6.000 in verità Però potete Potreste estenderli Avete tantissimi altri bonus In arrivo Sia per i nuovi iscritti Che per i nuovi Quindi Dategli assolutamente Un'occhiata Tutti i link Sono qui in basso In descrizione Ragazzi Ragazzi Vi auguro Una buonissima giornata Entrate anche sul gruppo Telegram Se non siete entrati Per rimanere sempre aggiornati Su Instagram Tutti i social E qui in basso Ciao ragazzi Grazie a tutti